ben ritrovata la rubrica perché no pillole di artigianato per un pensiero modificato attraverso l'altro significato di alcune parole la parola di oggi è eccezionale che deriva da un ex un prefisso che porta fuori da e capere è lo stesso verbo che sottende al verbo capire catturare cacciare captare dunque letteralmente un capire fuori uno slegarsi dunque dalla traduzione ordinaria delle situazioni che tendiamo a vivere oltre che dai termini con cui li definiamo è verosimile e plausibile dunque poter pensare che lo stesso affidamento alla sorgente del significato delle parole sia di per sé un buon viatico per considerare tutto ciò che noi chiamiamo in modo eccezionale dunque per cambiare e spostare i limiti di quello che noi definiamo cosa che facciamo solitamente in situazioni eccezionali è lì che cambiamo i limiti in questo caso direi che è un lavoro possibile quotidianamente perché no un abbraccio buona serata e buona giornata a tutti anche se la gente vuoi l'abbiamo 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 Grazie a tutti.